E allora io sono molto molto contenta di essere qua perché la Benj, mi ha sempre parlato tutti bene della Benj, io ho giocato contro quando ero in B1 e sono, insomma quando ho ricevuto la chiamata diciamo che non ho, ci ho pensato un po' ma perché ho dovuto guardare altre cose della mia società e così però ero veramente convinta di venire qua fin da subito. Sono qui per imparare, per crescere tanto perché con Stefano, lo conosco solo da avversario però so che è un bravissimo allenatore e sono qui appunto per imparare anche dalle giocatrici che sono tutte più grandi, che hanno più esperienza di me e tutte di serie A che vengono dalla serie A e io sono pronta ad imparare e a crescere veramente, sono qui per questo e sono molto contenta.